L'emozione del luogo E' inutile, l'istinto ci dice le cose, non sono più abituati ad ascoltarlo ma è così Quindi questo luogo è mai stato una prigione Nei secoli è stato un luogo di difesa come è nata la torre E le trance di questo sono nelle aperture larghe e strette, larghe e strette E nelle aperture che viene davanti un pezzo voi che siete in quella zona Ha riportato alla luce tutte cose di epoca romana Voi vedete soltanto muretti e camminamenti Ma sotto i cellophane per esempio c'è un camminamento che ha un bellissimo mosaico Bravo, non mi viene mai la parola mosaico Come i minatori Ritengo doveroso spiegarli Come mai questo luogo si chiama Fossa dei Martiri Intanto il territorio se vi girate a guardarlo è un affossamento, un avvallamento del terreno Dei Martiri perché, e qua questa lapide lo ricorda Amore, ribelli per amore Noi subito pensiamo ai partigiani Ma non dimentichiamoci i martiri delle dieci giornate di Brescia ragazzi Che è una cosa eccezionale Cioè tutta Brescia coesa contro gli austriaci Ma donne, bambini, massaie, mariti